memoria precarietà fragilità ma anche il rapporto con la natura e con lo spazio questi alcuni dei molteplici fili conduttori di hashtag nuovi codici la mostra che porta all'arte contemporanea tra le sale di palazzo stanga trecco gioiello neoclassico nel cuore di cremona che torna a mostrarsi alla città l'esposizione pensata come iniziativa collaterale della biennale di soncino che inaugura in contemporanea sarà aperta al pubblico dal 29 agosto al 20 settembre dieci le sezioni in cui si articola il percorso espositivo con opere di 33 artisti già attivi nel panorama nazionale e internazionale appositamente realizzate rispondendo alle idee di un pool di nove curatori e critici italiani. Hashtag nuovi codici esprime la quintessenza del nuovo modo di oggi di esprimersi di comunicare di lanciare messaggi i nuovi codici di oggi vogliono essere qui tradotti attraverso le opere d'arte contemporanee che qui vediamo di artisti giovani della nuova generazione che si esprimono sia con mezzi accademici reinterpretati penso alla scultura la pittura in modo attuale e contemporaneo sia con linguaggi più propriamente contemporanei come il video e la performance per cui lo spettatore ha modo e occasione di poter contemplare un panorama assai vasto e orizzontale come scelte dei linguaggi dei nuovi codici appunto del contemporaneo. Hashtag nuovi codici apre l'intenso autunno culturale e artistico cremonese portando fra le sale affrescate gli specchi gli stucchi e i legni intersiati di palazzo stanga l'arte contemporanea ma soprattutto un nuovo modo di intendere i linguaggi dell'arte.